Oggi incontriamo i nostri top client e li presentiamo una nuova tecnologia di ESOPAN, la tecnologia LIFE, una tecnologia a frutto della ricerca interna ESOPAN ed esclusiva sul mercato. La tecnologia LIFE è halogen-free e garantisce un migliore isolamento termico, inducendo i consumi energetici e le emissioni di CO2 nell'atmosfera. La tecnologia LIFE ha la migliore reazione al fuoco dei poliuretani sul mercato con la certificazione IS-1.0. La tecnologia LIFE